Il sindaco Gaetano Manfredi fa chiarezza dopo il crollo nella vela celeste distinguendo l'emergenza sfollati dal tema dell'assegnazione delle nuove case. Da oggi inizia l'esodo degli sfollati che sono circa 700 che si recheranno alla municipalità per chiedere il contributo. Il comune ha messo a disposizione già un milione. Oppure una sistemazione in uno degli alberghi che si trovano tutti fuori città. Quanto alle nuove case che saranno 433 a fronte di 507 nuclei censiti, alcuni non hanno i requisiti per un nuovo alloggio, Manfredi risponde così. In questa fase è stata già fatta una valutazione attenta dei requisiti della platea e la larga maggioranza tali requisiti. Poi esistono situazioni marginali che sono sotto attenzione e che continueremo a seguire. Da oggi inizia quindi lo sgombero dell'università che deve essere liberata entro il 15 agosto. Quella di ieri è stata una giornata intensa sia sul fronte del comune che per i comitati delle vele che dopo un'assemblea notturna proprio all'università hanno dato il via libera al piano Manfredi, ovvero il contributo o la sistemazione in albergo. Il popolo delle vele ha dato il suo ok, si legge in una nota. Ora il comune si impegna ad avviare quanto prima la macchina organizzativa, aprire gli uffici della municipalità e iniziare il piano di sistemazione per tutte le famiglie, circa 300 accampate nella sede dell'università da 10 giorni e mettere da subito a disposizione le strutture alberghiere resta prioritario per consentire alle famiglie di tornare ad una normalità. Poi il passaggio sul contributo. Anche sul mantenimento economico proposto dal comune c'è il pieno benestare. Alle famiglie potrà essere consentito di scegliere in maniera autonoma la modalità con cui utilizzarlo. Dunque in un paio di settimane, ma la sensazione che si farà molto prima, gli sfollati troveranno una sistemazione anche se provvisoria.